Togliamoci di cinture Fiat Music, ragazzi, che bella macchina. Allora, siamo a Roma, siamo a Roma, siamo a Roma al Piper. Questo è lo storico locale, il Piper, locale famosa d'Italia. Fiat Music arriva al Piper. Qui il Piper, la cosa bella, è che è stato di proprietà di una famiglia. Lui è il più piccolo, Giancarlo. Sono il quarto. Quanto? Non sono il più piccolo. Il padre ne ha fatti cinque, i figli. Cinque. Senti, quindi tu non sai niente del Piper. Beh, non è che non so niente, insomma, ci sono cresciuti. Guarda, sta andando via, l'unico che sa. Chiamalo. Costanzo. Chiamalo. Vieni qua, non andare via. Perché vi mostriremo, prima di infiare questa serata Fiat Music al Piper, Costanzo, perché tu c'eri da quando? Da 65. Sì, da quando abbiamo aperto. Allora, entriamo al Piper, guarda ancora. Qui sono venuti tutti, cioè tu qui li hai visti tutti. Tutti quanti, questi che vedi qui per... Totò. Anche Totò è stato. Sì, anche lui c'è stato. Totò, chi c'è qui? Nino Ferrer, il grande Nino Ferrer. Chiaramente il Piper è conosciuto per Patti Bravo, ma non è venuta solo Patti Bravo. No, ma è venuta di tutti. Patti Bravo è venuta così come cliente, e mi ricordo che l'avvocato Crocetta la vide e ballare, dice se questa sapesse cantare come balla ne faremo una diva. La chiamò e la misi a cantare. Questa fu un'idea di Crocetta. E' diventata Patti Bravo. Questa chi è questa? Nada. Nada, ma era ragazzina qui. E' vero, so, i Beatles, ma hanno detto che sono venuti i Beatles di qua, sono passati di qua, quando sono venuti a suonare, non hanno suonato, non hanno suonato. Non hanno suonato, che suonavano l'Adriano, il Cinemadriano. E sono passati così a vedere il locale. Perché chi veniva a Roma doveva passare di qua. Sì, ma allora era un fatto, chi veniva a Roma veniva dentro, non so, non c'era. Andiamo, scendiamo ancora, vediamo Giorgio Gaber e Umberta Coni. E' solamente che sono tutti giovani. Sono tutti giovani, ma... Ecco il book. Leali con la Cantù, questo non so chi sia, però qui tutti i Gassman, che Gassman non mi ha venuto a fare. Monica Vitti, sì, c'è la gente comune, solo che allora, non tutti. Sì, non solamente le fotografie, ma... Esatto. Monica Vitti. Quindi, ad esempio, qui faccio vedere queste foto del... Ecco il Piper, vedi, tutti questi che ballavano, Nureyev, Ugo Tognassi, qui c'è Zeffirelli, Anna Magnani, Albertazzi, la Proclamer, guarda la Gabriella Ferri, Valeria Cangottini, Roseva Dimegge in fonda. Cioè tutti arrivavano e passavano al Piper. Chi è passato dal Piper anche è David Bowie, che da qualche parte ci deve essere. Sì, sicuramente lo troviamo. Dov'è il... La lettura europea di David Bowie. David Bowie, sì, ma c'era anche la Delica che aveva fatto. E' stata da un'altra parte. Ma... Da un'altra parte. Poi c'è Nancy Sinatra, Tony Rhenis. Ecco, guarda, tutti fatti bravi, questi fatti bravi. Tutti scendevano le scale di questo locale. Renato Zero, quando era un ragazzino magrissimo. Gli racconta un fatto di Renato Zero. Vieni qua, vieni qua. Eccolo qua, guarda, Renato Zero. La mia Martini, eccolo qui, Renato Zero. Vieni qua, raccontami questo fatto. Ho fatto questo, che stava via Vene. Stava via Vene. Questa è stata con Bob Dylan. Presentata da Tito Schippa. Qui, qui al Piper. Sì. Bob Dylan. Questa è proprio la locandina della serata. Era la serata. E allora? Stavo a Via Veneto con mia moglie. Seduto al bar di Via Veneto. Passa sto ragazzo secco, mal vestito. Naturalmente io che lo conoscevo, l'ho fatto sedere. Passata la serata. Non è per te. Passato il momento del caffè. Poi alza da serata mia moglie. Ma con chi mi fai stare seduto? Ero Renato Zero. Sì, beh, certo. Sento che sotto c'è Fausto Cesare la pietra da provare. Il suo intro. Mali, primiti, siroclici. Guarda Rita Pavone, piccolina. Proprio piccolina ma non è stata qui. Eh, era proprio giovane, giovane. Ma questo chi è? Nel bar. Nel bar. Carl Cobain è venuto qui. Carl Cobain è venuto qui. Carl Cobain, sì, sì. Ah, sì. Prima di suicidarsi. Infatti venne in Italia proprio prima. Eccolo qui. Ecco qui, ma è qui forse che l'ha incontrato chissà dove, perché Asergetto mi ha detto che l'ha incontrato ma non so dove. Battisti è venuto chiaramente, qui è venuto, queste scale le ha scese anche il mio idolo, Jimi Hendrix, non ha suonato qui. Non ha suonato qui, però è un po' del tutto. No, al Piper di Milano. Al Piper di Milano. Prima suonò al Teatro Brancaccio a Roma, poi venne qui insieme a Patti Bravo, così mi hanno raccontato la raggenda. E tu di piccolino, tu non c'eri, lui non ci ricorda neanche chi era, Jimi Hendrix. Perché in quei tempi c'era molta confusione. C'era molta confusione, capisco. E il giorno dopo sono al Piper di Milano. Al Piper di Milano, ragazzi. Allora, questo è il Piper, noi adesso entriamo nel Piper e inizieremo, inizieremo proprio con Fausto Mizzolera che stava facendo queste schiterate. Stiamo entrando al Piper. 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 Stiamo entrando a quello che sono Abbiamo già gestita al Piper. Siamo al Piper in questo momento. Il 10 saremo a Lecce. Il 17 a Napoli. Lecce a Ufficine Cantelmo. Napoli al nuovo Teatro Sanità. Fausto vieni con me. Allora Fausto ecco. Siediti qui dove ti vai a sedere. Vicino a me. Allora, questa sera non c'è solo Fausto Misolella con me. ma c'è Valerio Scano che è venuto a trovarmi ciao ho voluto essere qui domenica sarà a Roxy Bar live però ho voluto e poi Fausto ha portato un suo amico che non so se sul web è la tua prima diretta web Massimo Massimo Lopez sì buonasera sì la prima diretta web onoratissimo di essere qui allora volevo dirti questo lui poi mi ha spiegato dopo ci farò raccontare un attimo perché lo voglio incastrare dico già che siccome ha detto che canta anche questa sera mi sa che con Fausto un pezzo lo farai io il signor Massimo Lopez ah sì lui forse sì io però rimango qui lui lo farà lui visto che sarai lui è un po' bivalente e quindi il Massimo Lopez cantante andrà sul palco ah così all'improvviso sì all'improvviso va bene così metà a metà tra gli artisti americani sì quando mi scappa lo faccio allora Massimo Lopez fra l'altro io questa sera purtroppo noi qui mentre abbiamo un efficientissimo servizio che ci manda in onda qui vediamo poco internet abbiamo un po' di problemi comunque leggo qui ad esempio Paola De Marinis che scrive c'era anche il nostro Valerio sei anni fa al Pai per in concerto poco prima del suo primo Sanremo fiera di esserci stata sì quasi sette quasi sette ma eri un bambino avevo meno di vent'anni diciannove quasi e qualcosa allora intanto io non capisco perché il primo gruppo non si stia preparando quindi appena il palco è libero voi dovete salire sul palco altrimenti se state lì ad aspettare perdiamo molto tempo dunque dove siamo in onda noi allora stiamo cercando di ripristinare il contatto perché per i problemi di internet qui dentro stiamo riuscendo piano piano ci riusciremo di fare su Roxybar TV comunque siamo già fantastico siamo già vedo su Roxybar TV siamo sulla pagina questo vuol dire che sta girando c'è lo spot di Nexilia e poi dopo parte siamo sulla pagina Facebook mia siamo sulla pagina Facebook mia su Opti Magazine ecco qui sta partendo siamo su Opti Magazine e qui c'è eccola qui Fiat Music a Roma siamo sulla pagina Facebook di Opti Magazine eccoci qua mi rubano il microfono credo di essere anche sulla tua pagina Facebook vediamo Valerio Scanu Valerio Scanu allora Scanu ecco questa vediamo un po' se Daniele è riuscito a fare la connessione sì tu dici di sì questo è il eccoci qua siamo sulla pagina Facebook di Valerio in diretta bene allora fra l'altro Valerio mi ha parlato una cosa alla quale io tengo molto che è questa il il vinile il vinile che è importantissimo perché tu non lo volevi fare no io in realtà lo volevo fare no sì diciamo che è nata dopo l'idea di farlo però era diciamo un'idea una cosa che avrei voluto fare successivamente infatti è stato la settimana di uscita è stato il vinile più venduto in Italia e niente adesso tu hai il numero dieci cioè tu hai il numero dieci perché sono tutti numerati i vinili no ma volutamente mi è stato dato il numero dieci che è il battitore libero è il Maradone a Rivera non so se intende di calcio no no assolutamente più di musica più di musica vediamo stasera stasera noi avremo dodici in realtà sono diventati tredici artisti e gruppi della nuova era tra cui ne sceglieremo tre che andranno alle semifinali del Roxy Bar poi ci sarà la finale da fine novembre fino ai primi di dicembre andiamo sul palco perché abbiamo Tommaso Primo chi è Tommaso Primo? sei tu Tommaso Primo? buonasera buonasera e grazie per avermi ospitato allora da dove arrivi Tommaso? grazie ecco come sentite all'accento io sono di Bergamo Alta ma invece no sono di Napoli e veniamo dal sud a portare un po' della nostra musica della nostra canzone in napoletano magari non tutti ci capirete però c'è una cosa più importante il linguaggio e quella cosa è il suono e spero possa arrivare a tutti tu fai canzoni tue napoletane sì sì perché c'è poi quella tradizione che continua dai tempi dei fenici dei greci adesso si è spostata fino al 2016 il consiglio che io do a tutti i gruppi che si esibiscono di scegliere tra le due canzoni che fanno la canzone sulla quale puntano di più e quella farla per seconda ah quindi per seconda la canzone più importante anche se per seconda va bene perché così avete già settato avete vinto l'emozione vi state già abituandovi al palco e potete spi cioè questo non ha problemi guarda guarda è uguale è uguale per lui è uguale sono già pronto io so qua che ce frega eh non ci vuole a me allora scegli tu fai come vuoi primo artista con gruppo in questa Kermes è Tommaso Primo me lo fate un applauso di incoraggiamento grazie un pezzo che parla di una ragazza un po' particolare di cui ero innamoratissimo farò un mavoluto di cui ero innamoratissimo di cui ero innamoratissimo qui è innamoratissimo di cui ero innamoratissimo mi sento ero innamoratissimo Maria, ballo in coppia e davola a tutte le feste, c'era bella la terra mia, c'era bella la terra mia. Ecco il mio papà si annuncia, il primo po' la sposa, il primo po' la sposa. Ecco il mio papà si annuncia, il primo po' la sposa, il primo po' la sposa. E torna tutte le poteci in gammatina, da nu tre mila e cento gupe. A roba non tanto moita in vino, a spese bufficelle e l'arche. A cercare i ghiatti per arruiva, se guanna da non c'è ne varia. Ma poi nessuno lo rappresenta a casa, non si ama io sapo mamma. Non si ama io sapo mamma. E come va un po' la nucia, il primo po' la sposa, il primo po' la sposa. E come va un po' la nucia, il primo po' la sposa, il primo po' la sposa. E se gli arronne a mare, mi avrebbi scacata, di chi ne parte l'oro con chi gli può cullare. Di ci arronne a mezzo a buio, signorina bella. Catevi d'eschi al culo sotto un mezzo da sella. Catevi d'eschi al culo sotto un mezzo da sella. Catevi d'eschi al culo con le bosche bandite. Pallaranno po' canzoni e storie ma la vita. Catevi d'eschi al culo sotto un mezzo da sella. Catevi d'eschi al culo sotto un mezzo da sella. Catevi d'eschi al culo sotto un mezzo da te peu. Ma viola che st'amore non lo sapeva, perché io la volevo parlare, e mentre nel mio coraggio scava e scendeva, sentendo una sirena suonata. Allucano i paliassi e rindori, sputando gli asti e manati, ma accendendo la televisione, ripigliavano la viola mia. Che manetta la polizia. E ora sei più tremmi, se c'è stagione, ma mai sei che i compagni non è. Con la mia tetto ancora una scusa all'era, roba che ancora ne va da lì. La cerchia più nessuno, figlio e papà piccio, se te ne ha stretto l'ora, che un altro più sincero va valutare, quando valo per l'amor. Quando valo per l'amor. Ecco il mio papà, c'è l'uscia, il primo po' ma sposo, il primo po' ma sposo. Ecco il mio papà, c'è l'uscia, il primo po' ma sposo, il primo po' ma sposo. E sai, che ranno amare, piove e pisciocato, e chi ne fatterà, con chi ne fa cullare, e che ranno mangiare buio, signorina bella, c'è l'uscia, il primo po' ma sposo, come c'è la sera, che andranno a cuore, a cuore, e posso che bandita, e poi la ranno po' canzone, storie ma la vita, un lario che non ha saputo, ma è maligonia, riusciuto tutta la vita, pane e bua panarita. E sai, Allora Allora Il prossimo pezzo è un pezzo che io utilizzo di solito per fare la dieta perché come potete vedere sono tutti cantatori su sic io invece ho un po' di pancetta perché a casa mia si mangia bene Allora siccome non faccio mai un movimento, non faccio sport perché a calcio non so giocare a pallavolo sono basso faccio un po' di balletto zico su questo pezzo che si chiama Neapolitan Love Stories siccome sono il Cledi di Mergellina vi voglio far vedere due passetti come ho inventato io Siete pronti? Se vi alzate in piedi e balliamo, una cosa bella, non tutto assieme luna Fai tanto che ora parla mi è sagraresco la tua sua donna sarà ma san unico e ne va so che a bollù che ne soppur zun la sigaretta chi fu? Vienta, mi è zabila e vera è cresciuta Per manca parruve le volute Su scianna vota l'idacchiaia l'arra Ciò da, a giorni si può chiedere come un sol Io tu li fanno parla, vien da l'avion Sottile si zompestate a rimar Andando con la barna, mi è saccare l'escolta L'acqua di sottona, sarà passato unicola Ne ho giocavo a luca, viene subito a zoom La sigaretta che fuma, che resta forse calma E la barna è mia la vita La barna faccio male, sali in te farina E porto solo in coppa, e li dammi la genita Senza ricer niente E la barna faccio male, sali in te farina E la barna faccio male, sali in te farina Una voce che ha voluto, piano si consuma C'è la sigaretta che vuole, che resta un po' di calma per calavire A volte fa più male, salire e farire E poi tosse la coppa, e gli danni la gente, senza ricerche Signori, se ci date una mano con le mani, per favore, che è più forte Pure lì dietro, eh, pure lì qui Grazie a tutti 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 Tommaso Primo, primo artista vediamo un po' per quello che riesco a vedere allora ci sono dei fan degli Stairwave che stanno aspettando Grande Vale se in effetti un po' di tonalità dal vivo si può capire adoro Valerio Giudice è sempre molto professionale e competente allora tu per fare adesso ovviamente certo, bellissimo inizio con il racconto degli artisti passati al Piper, grande come sempre Mesolella, felice di vedere anche Valerio Scano con Massimo Lopez allora poi dopo Lopez è bravissimo a imitare Maurizio Costanzo, ma a noi questa volta non ci interessa perché Lopez è bravo a fare tutto, perché Lopez fin dal trio io impazzivo, difatti prima c'era uno che ha scritto ma ti rendi conto sei seduto vicino a uno dei promessi sposi perché voi il trio fece una sono emozionato io stesso a sedere vicino a quello ah già è vero che tu sei bipolare e quindi sei seduto cioè proprio nel luogo dove c'è quello dei promessi sposi però questa sera cioè Massimo è bravo a far tutto perché l'ho visto fare tutto e tutte le volte mi stupiva e so che sarà bravo anche come cantante adesso siamo poi dopo Lopez bravissimo ricetto questo non so cosa vuol dire ricetto pappice vicino alla noce dammi il tempo che comunque ti spacco disse no ricetto pappice dicette chi è il pappice disse il pappice sarebbe l'animaletto vicino a una noce che ha la crostatura dammi il tempo che che ti spacco ok ok allora adesso andiamo anche di Andrè è passato di lì sì qui sono passati tutti qui al Piper e adesso passano in plaza sentiamo in plaza intanto un applauso in plaza ragazzi da dove venite? ciao grazie a tutti grazie Red da dove venite? da Roma da Roma che musica fate? facciamo reggae reggae abbastanza classico oggi in tre perché appunto abbiamo una band più grande ma insomma i tempi erano un po' stretti per cui siamo riusciti a rimediare due persone a cui già farei un applauso per favore perché ero da solo e loro ne hanno accompagnato grazie sì perché purtroppo oggi fare musica è praticamente impossibile quindi le persone devono fare altri lavori siamo dopo lavoristi purtroppo allora i dopo lavoristi in plaza sul palco del Piper per Fiat Music cantante microfono del cantante forse è qualcosa nella sua pedaliera perché poi arrivano lui vedo che il cantante intanto descriva una bellissima chitarra Dobro la chitarra Dobro ha un suono molto molto particolare non è totalmente metallica perché è metalegno e quindi la chitarra passa finora adesso perché poi arrivano tutti con i loro aggeggi fai vedere in primo piano quell'aggeggio che c'è lì davanti il microfono va? prova il microfono no il microfono non va quindi c'è sotto il piede dunque quello è sotto il piede allora e purtroppo non è più come una volta al Piper quando arrivavano attaccavano gli strumenti si partiva oggi ci sono tanti aggeggi infernali gli vado a dare una mano gli vado a dare una mano cioè vai anche tu Fausto che ti intendi di pedaliere allora no qui non c'è niente non c'è niente 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 però è piano il microfono va il microfono va sto provando il tuo microfono va bene senti qua la prossima volta metti a posto plaza no c'è niente 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 niente non c'è niente non c'è niente non c'è niente darkness beat a speed break a music to know low low parla al cuore di ogni forma urlerà un palmo aperto nel deserto in piena siccità quando ogni goccia racconta una scelta l'angoscia di vederla asciutta sulla sabbia occhi aperti nell'offrio occhi chiusi dal pendio mentre intorno sembra l'ora dell'addio un canto che riparte musica che splende vola libero nella corrente le mani ma 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 dark let's be speed break your music tonight low low le mani eh 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 keep it low bass line man bass line eh One love for my people One love for the world One love for the children One love for the unity of the swords One love for my people One love for the freedom fighters One love for my people One love for the world Oh, wake up, tell the people Sweet regular music tonight For no more pain, no more darkness Sweet regular music tonight Wake up, tell the people Sweet regular music tonight For no more pain, no more darkness Sweet regular music tonight grazie 2000 allora il prossimo pezzo è un pezzo che dedico sempre a una terra martoriata è una terra dove anche ho girato un video questo pezzo si chiama la terra santa ma di santa non ha più nulla e è un muro continuo questo pezzo lo vorrei dedicare a chiunque di voi creda ancora che le cose possano essere fatte con amore pace educazione rispetto e gentilezza grazie con questa vi salutiamo grazie a tutti I hope they'll fight in all the land Bees in no casas too brave I'm a piece in West Bank, oh yeah, yeah Piece in West Bank, oh yeah Qualcuno cerca ancora il ritentore Qui nelle distese sotto il sole e foglie Non qui dove viveva il vostro pescatore Qui non si arriva più al mare Oh no, quel che pensi possa essere inutile Cercare umanità dentro il salvabile Perché non osservi come sono vivi Quegli ulivi fermi immobili Che osservano da tempo secolare Stop the fighting all the land Bees in no casas too brave In Jerusalem, oh yeah In Jerusalem, oh yeah, yeah You gotta stop the fighting all the land Bees in no casas too brave No piece in West Bank, oh yeah Piece in West Bank, oh Qualcuno crede nei miracoli Ma qui non si parlano tra i tavoli Qui dove mangiavano i discepoli Tra pistole e fucili Oh yeah, yeah, stop it! Dove l'attesa è la normalità Dove la giustizia è solo identità Perché non capisci come le persone Dei propri personaggi non hanno neanche il minimo essenziale Stop the fighting all the land Bees in no casas too brave No piece in West Bank, oh yeah In Jerusalem, oh no, no, no You gotta stop the fighting all the land Oh, bees in no casas too brave No piece in West Bank, oh yeah Bees in West Bank I'm справ seat in West Bank I'm ready for the retire金 Ok, ready for the love boy Oh yeah, yeah Oh yeah, yeah Oh no, 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 no Oh no, I'm free guys, don't pay so much money Tutto vai chi vu, confine e non vittori Laiana, Chicago, set time free Oh, set time free, set time free Stop the fighting of the land, eh Peas in the courts and peace now in Jerusalem Oh yeah, yeah, Jerusalem, oh no Stop the fighting of the land, eh Peas in the Casa Strip, non, peas in West Bank, oh yeah Oh no, I'm free guys, don't pay so much money Go do vai chi vu, confine e non vittori Laiana, Chicago, set time free Set time free, oh no I'm free guys, don't pay so much money Go do vai chi vu, confine e non vittori Laiana, Chicago, set time free Oh no, oh no, oh no guitar solo Ooh guitar solo The man on the screen ciao e grazie a tutti grazie vieni qua fra l'altro se non sbaglio sediti qui vicino tu dovresti essere prodotto da Alborosa sediti un attimo Alborosa, Alborosa io lo conosco come Stena era nel Reggae National Ticket poi invece è andato in Jamaica sta avendo un successo incredibile sì, beh lui è il numero uno davvero dall'Italia, dai Reggae National Ticket poi lui è passato a diventare Alborosi e pensate che Borosi in jamecano significa rasta sporco significa una cosa un po' brutta e lui ha conquistato completamente quell'isola e il mondo intero con il Reggae che fa lui e per me è stato veramente una delle esperienze più belle e più importanti della mia vita andare due mesi a Kingston incidere il disco Fausto a me è una curiosità perché hai scelto una chitarra Dobro per il Reggae? perché di solito non stasera ma un suono diciamo molto elettrico molto crunch molto waka waka e quindi funziona tanto in acustico io il Reggae mi diverto molto con una simile Dobro è una curiosità perché di solito io ce l'ho pure un Dobro e lo uso vabbè perché è una chitarra nativa per il blues per cui mi sembrava strana sta cosa però era solo una curiosità brava ma in realtà il Roots Blues e il Roots Reggae secondo me sono figli di una stessa mamma che è appunto la black music delle origini i passi le catene le stone le pietre e tutto quanto Valerio Roba bravo lui io penso che comunque nel panorama musicale che viviamo noi adesso possa avere anche il suo spazio perché è originale e insolito tu dovrebbe avere dovrebbe avere molto spazio oltretutto adesso sono stato molto coinvolto da quei sapori lì da quei luoghi lì e questo mi ha mi ha preso molto e poi io trovo lui molto con un temperamento straordinario grazie Massimo Lopet grazie a Iplata sto guardando perché grazie per help Reddy che ci ha cresciuto un po' a tutti vuol dire che studiavi poco se guardavi sicuramente Reddy no sto guardando perché noi siamo anche c'è anche Twitter e volevo far vedere alcuni tweet il lastag lastag Fiat Music ci sono tanti retweet perché allora mi è piaciuta Terra Santa felice di vedere ospiti Fiat Music Lopez eccetera anch'io poi ci sono delle cose belle qui c'è i vive i vinili ok su Valerio Scano c'è andiamo avanti veloce c'è Nadine che fa i soliti collage molto belli poi un po' di retweet dovrei eliminare la visione della vista dei retweet eccetera sono stregata da Fausto Mesolella cioè una fan di Valerio Scano deduco Luciana perché ha la foto del disco di Valerio stregata da Fausto Mesolella poi c'è questa finta Mara Venier che dice questa sera non c'è per nessuno seguo Valerio Scano le droni in diretta web bello della SIA eh sì che ti dico ecco però dici che scrive cose molto divertenti sì ha un sacco di followers sì il profilo di Mara su Twitter non c'è però c'è questo profilo fake ufficialmente fake perché se tu ci clicchi sopra ti dice proprio ufficialmente fake che scrive delle cose molto molto divertenti io so anche chi è se beh vuoi mai che tu non sappia chi è cioè ma quando mai tu no io so chi sono i profili fake di tutti ah sì certo una l'altro giorno l'ho anche mezza ho detto solo il nome non ho detto il cognome ah ok ok allora poi invece andiamo a vedere su Facebook vi ricordo che siamo in diretta su Facebook anzi condividete questa questa diretta fammi vedere come siamo messi qui perché prima si era bloccato tutto perché purtroppo qui non abbiamo molta connessione sto cercando di capire ma non ce la faccio allora facciamo un reload nel frattempo si stanno preparando gli stair wave gli stair wave che sento hanno anche dei fan tra il pubblico stanno schitarrando di brutto qui qui fanno 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 chi fa la pipì più lontano con la sole di chitarra in questo momento senti senti allora qui non riesco a collegarmi perché purtroppo tutta diciamo la banda che abbiamo via satellite la utilizziamo per andare in onda e qui dentro il piper non i telefonini non beccano quindi allora nel frattempo che si cosa andiamo sul palco senti vuoi dire con quel frichettone di chitarrista che mi ricorda uscito dai Genesis o dai Camero o dai così di smetterla un attimo anche un po' Robert Plant no non tanto Robert Plant un po' il Jimmy Page con gli occhiali allora stair wave di dove siete? noi siamo di Teramo quindi veniamo da Teramo sì siamo di Teramo cioè tu devi guardare in faccia uno sono un po' emozionato capito quindi ma emozionato no devi sapere che oggi gli stairway sono presentati anche al Fiat Music Plaza Fiat Music Studio perché tutte le tappe a partire da Torino eccetera oggi eravamo al Motor Village di Roma poi non so dove saremo a Lecce comunque e dalle 11 alle 3 sarebbe anche prima in realtà siamo andati alle 4 e mezza incontriamo adesso ha smesso lui comincia il bassista incontriamo quelli che ci vengono a far ascoltare brani e oggi sono tutti anche loro anche se si esibivano stasera non ho capito perché comunque beh sì c'è stato un misunderstanding perché noi pensavamo che questa mattina fosse solo un'occasione per ascoltare brani e quindi noi abbiamo detto vabbè presentiamoci abbiamo altri brani da fare ascoltare a Red e ci siamo presentati insomma siete pronti? sei pronto? hai finito di far casino? sì certo allora Piper terza tappa della Fiat Music cioè giuro giuro che se suonassi insieme a te e facessi chi era il tastierista? e dov'è il tastierista? è invisibile vabbè allora loro loro sono gli stair wave eh hey Trenna in noi, giovani e peli erai, cuore insicuro, in presa, imprevviva, d'ansia di me. Noti mie, madide terapie, per non guardare avanti un po' costanti di essere in realtà. Guarda dentro me, c'è un equilibrio instabile, rinconvinito dalla mia, insospettabile buzia. Crescere. Trenna in noi, giovani e peli erai, guarda dentro me, c'è un equilibrio instabile, intorbidito dalla mia, insospettabile buzia. Crescere. 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 Il secondo adesso è Abbassi la testa dell'avvisire di equilibrio instabile. Siamo producendo un disco che uscirà in novembre, se avete voglia di sentirlo potete seguirci sul web. Questa è Abbassi la testa. Olimani, dai! 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 Blackku! Renovole! コ volete vendere via messaggio di fatti messaggi ok stanno dicendo che va tutto bene che state vedendo in maniera flussa va tutto bene flussa nel senso che defluisce bene grandi stairway sempre più grandi siamo impazienti a ascoltarvi Ilenia che non so chi sia bevi poi c'è musica Fiat Music e Musica Sia, mi mangio un po' di torna, torno appena finiscono perché Pietro Daniele è stato questa roba qui, mi ricordano gli Unresolved, che non so chi siano gli Unresolved, mi mancano, poi i messaggi precedenti sono persi perché mi sono collegato adesso. Sul palco in questo momento abbiamo un gruppo che tra l'altro io li conosco perché sono già venuti al Barone Rosso e quindi si chiamano Better Place, lo arrivano dalla Toscana perché noi abbiamo cinque tappe, però come vedete i gruppi si stanno distribuendo, fra l'altro credo che oggi ci sia anche un artista che viene da Torino perché è arrivato a Torino, ho visto Fiat Music e ha detto ma allora io mi scrivo, vengo dove mi mettete, in effetti meritava, credo ci sia se non sbaglio perché poi io alla fine tra quelli comunque penso ci sia, adesso vediamo. Allora, vediamo anche se nel frattempo va Twitter, quindi eccolo qua, ok, è ripartito anche Twitter, quindi vi ricordo l'hasta che è Fiat Music per comunicare con noi, tu lo stai guardando tu? Eccolo qua, androccasi. Tu come fai ad avere la linea? Ma io ho un telefono speciale. Sì, allora guardate, ecco si vede qui e allora si vede anche, però io non riesco a farlo vedere perché non è, si vede anche sull'applicazione Flips, eccola qui l'applicazione Flips, cliccando dentro l'applicazione Flips, eccola, e quando becca, io no, sta girando la rotellina, c'è comunque su Flips la diretta del, che fra l'altro stanno vedendo da tutto il mondo in maniera molto, perché è famosa in tutto il mondo, dall'applicazione Flips ci siamo anche noi, guarda come si vede bene, ma che telefono hai tu? Un telefono, già sai, un telefono importante. Già sai, un telefono importante, ma c'era l'applicazione Flips? No, ancora non l'ho messa. Allora scaricati l'applicazione Flips così dopo la facciamo vedere. Ok, ora me la scarico. Scaricati Flips, è gratis, no te lo dico perché... Non ho credito, quindi comunque non me lo darebbero, perciò prendo solo quelli... Ok, allora, vediamo un po', se sono pronti i better plays, hanno già fatto qui, guarda, felice di vedere come Solella, Massimo Lopez, eccetera, eccetera. Ok, ricordo hashtag, cos'è, Flips? Flips, questo qui, Flips, esatto, vediamo se è questa, è una rossa con scritto Flips dentro, no non è questa, sì è questa, ottieni, installa. Ok, fra un po', vediamo se è riuscito a installare, Flips. Dicevo che i better plays vengono dalla Toscana, io li conosco perché sono già venuti a trovarmi al Barone Rosso, hanno già dei dischi fuori, anche prodotti, tra l'altro prodotti da... da... Vince Pastano e Antonello Durso. Vince Pastano è chitarrista prima di Luca Carboni e adesso anche di Vasco Rossi. A voi il palco, tutto pronto? Tutta la grande. Ok, better plays. Ciao, buonasera a tutti. Questo è il nostro viaggio interiore, si chiama Salvatemi. Fatemi esprimere un desiderio, guardare una cometa, nella notte di San Lorenzo, fatemi pensare in silenzio. Non riuscirei a sognare, ma non saprei dormire, vedere, ma non toccare. Salvatemi da tutto ciò da qui. Posso difendermi, salvatemi da tutti gli errori che non rifarei. Fatemi credere in qualcosa di migliore. Salvatemi da tutto ciò da qui. Non posso difendermi, salvatemi da tutti gli errori che non rifarei. Salvatemi da tutti gli errori che non rifarei. Abbiate pietà di me, sono nato mortale, morirò neonato. Con ricordo di un orgasmo, ma ancora tanto da imparare. E datemi, vi prego, tutto il bene che potete. Sono solo un uomo, un uomo solo. Salvatemi da tutti gli errori che non rifarei. 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 Grazie. Il prossimo urano si chiama La Stazione Alla stazione ti rifreddi Passo un treno ogni quattro minuti Porta un vagone di mezzi sogni e lacchi Di chi se ne va E quel bambino ha le mani sporche Di chi va con la pietà Di fronte a quel signore con la cravatta E la sporcizia sulla verità Due innamorati si scambiano sguardi e baci Costretti fra denti Mentre una musica cambia il vento Nell'orizzonte che oramai si è spento E guardo dentro di me Mi sento invisibile, vulnerabile Dentro di me Mi sembra impossibile Alla stazione ti rifreddi Trovi sempre comunque qualcuno Chi parte per un viaggio breve Chissà che non tornerà E c'è chi invece vive questa vita Rinchiuso nell'oscurità E c'è chi invece grida E c'è chi grida e urla sfacciato Per un po' di notorietà E guardo dentro di me Mi sento invisibile, vulnerabile Dentro di me Mi sembra impossibile E guardo dentro di me Mi sento invisibile, vulnerabile Dentro di me Mi sembra impossibile C'è una stazione dentro me Come il riflesso che ho di te Passa la gente dentro me Come passa la malinconia Si alza nell'aria qualche suono tribale Un ragazzo straniero Agita forte le sue mani E si scalda il cuore col suo giambe E nel frattempo una voce risuona È forse l'eco dei miei perché O forse ho perso un altro treno Un'occasione Per rivedere te E guardo dentro di me Mi sento invisibile, vulnerabile Dentro di me Mi sembra impossibile E guardo dentro di me Mi sento invisibile, vulnerabile Dentro di me Mi sembra impossibile Mi sembra impossibile E guardo dentro di me 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 Mi sembra impossibile Mi sembra impossibile E guardo dentro di me Mi sembra impossibile E guardo dentro di me Mi sembra impossibile E guardo dentro di me E guardo dentro di me Mi sembra impossibile rock, molto godibile. Io volevo chiedere a voi quali sono, diciamo, le contaminazioni del vostro, le vostre contaminazioni, cioè quello che da cui voi avete un po' preso spunto. Ciao, piacere, Valerio. Diciamo che cantiamo in italiano e ci ispiriamo ai grandi cantatori che veramente hanno portato l'Italia a dei livelli incredibili, che tantissimi hanno sulcato questo palco, quindi per noi è un grande onore essere qui. E poi a livello musicale, proprio a livello di musica, ci ispiriamo invece tanto al sound britannico, New Wave, Post Rock. Diciamo che non c'è un gruppo al quale ci ispiriamo, ma ci contaminiamo di un sacco di cose, dagli Smiths, ai The Cure, ai Joy Division, un sacco di gruppi che ci ispirano quotidianamente. Antonacci. Ma, sinceramente, rientra nei cantatori italiani, ci ispira un po' meno, nel senso non ci rifacciamo molto a lui, però se ci hai sentito magari... Ho sentito una forte influenza di una canzone di Antonacci in questa. Quale? Tra te il mare. sì. In realtà la canticchiavo proprio sulla base, pensa. Invece ho visto, c'è il bassista, guardatelo, è battiato, battiato giovane. È vero, battiato. Fausto. Guarda, io non ho mai sentito un'esecuzione più impeccabile di questa, devo essere sincero. No, no, al di là delle giuste considerazioni di Valerio, perché lui entra dentro alla cosa. Voi siete veramente appartenenti al vostro tempo e questa è la cosa più importante, secondo me. L'energia che date è un'energia pulita e siete stati dei professionisti incredibili, veramente, mi sono incantato, veramente. Grazie a voi. Better Place, grazie Better Place. E adesso... Non vi illudete, sta dicendo, perché non illudersi? No, vabbè. Eh, fanno più piacere le parole di... Vabbè, adesso andiamo sul palco, perché cioè, io nel frattempo ogni tanto, ogni tanto riesco a collegarmi, ma è veramente... Quindi mi dispiace di non interagire molto con chi ci sta seguendo, però quello... Ogni tanto mi compare una linea e riesco a collegarmi, perché stiamo usando tutta la banda per uscire e mi dicono i messaggi che ricevo, che si vede bene e quindi siamo a posto. Allora, leggo ogni tanto qualcosa e basta, insomma. Allora, adesso andiamo sul palco, perché c'è... Però dopo leggeremo tutti i messaggi. Sul palco c'è una ragazza, Valeria Crescenzi. Di dove sei, Valeria? Buonasera a tutti, sono di Terni. Di? Terni. Ah, di Terni. Allora, perché fai musica? Perché non saprei fare altro, quindi perché per me è tutto. Ma tu ti scrivi le canzoni? Sì, anche. E non le scrivo dalla sola, ho la fortuna di condividere la scrittura e la composizione con Antonello Armieri, che è un altro cantautore, quindi abbiamo unito le nostre forze per fare, insomma, ancora di più casino, ecco. Casino, bene. Allora, se siete pronti, ascoltiamo le tue due canzoni questa sera. Ti sei accompagnata soltanto... Come si chiama il chitarrista? Allora, si chiama Francesco Valente, è molto più di un chitarrista, per me è un compagno di viaggio, quindi, insomma, vi chiedo un applauso anche, perché essere in due non è semplice, insomma, siamo veramente felici di essere qua, grazie. Il tuo sogno è di vivere di musica? Sì, sì, sì. Io già un po' ci provo a farlo, perché sto studiando tanto, quindi sto studiando musicoterapia, sto lavorando con i bambini a scuola, insomma, la musica è talmente grande che poi la propria forma si può trovare, se uno ne ha veramente voglia. E io ho voglia. Sì, perché vivere di musica non significa soltanto, appunto, come dicevo, cantare, fare i concerti, anche perché non è che si viva molto con questo, però, insomma, stiamo cercando di dare una mano anche a loro. Quando è pronta la chitarra, me lo dite? Pronto tutto? Cosa c'è? Siete in due e fate più casino che da soli? Cosa succede? Niente, niente. Eh, ho capito. Dimmi, che succede? Problema sullo streaming, dobbiamo aspettare un attimo. Problema sullo streaming? Con? Perché? Si è fermato il mixer. Cos'è saltato? È saltato la corrente in regia dove? Quella del mixer audio? Ah, ok. Aspettiamo 30 secondi che riavviano. Allora, voi in questo momento da casa non ci sentite, ma adesso stiamo arrivando perché è saltata la corrente giù. Allora, per avere una qualità migliore, dopo Torino, abbiamo aggiunto un mixer. Perché? Un conto, vi do un dato tecnico, un conto è quello che si sente in sala. Un conto è quello che va per l'emissione. Sono due cose diverse. Abbiamo riscontrato che è impossibile perché l'audio non sarebbe stato molto buono. Quindi abbiamo messo una persona, Simone, che è giù in un bunker dove non sei. Noi siamo già in un bunker, ma lui è ancora più giù dove non è influenzato dai rimbombi meno possibile o dalla musica qui per riuscire a fare un'emissione buona perché sentiate bene. Sentiamo bene? Bene. Qui ci siamo. Non c'è ancora la voce di lei. Perché ormai non è più come una volta. Cioè, qui arrivano con degli aggeggi e ogni aggeggi deve legare. Guarda, quella sembra una radio. Quella è una spiccola astronave. Ci siamo? Allora, lei c'ha la voce? C'ha la voce? Eccola, sì, è arrivata anche la voce. Bene. Perfetto. Manca, cos'è che manca? Un po' di base? Un po' più di ascolto qua. Un po' più di ascolto, non della voce, ma del resto ci siamo. Valeria Crescenzi. Grazie. Sono le mie corse d'istinto, un respiro profondo, mille passi veloci di chi sta scappando. Nascosta negli angoli insieme alla polvere. C'è la nostra occasione. Sorridono gli occhi che sanno cambiare. E rimane la pioggia a fare rumore. I vecchi fermi alla finestra che sanno immaginare. Il mio è il tuo giorno di festa senza pesi sul cuore. Lo spazio che resta tra due mani incrociate. Io sono i discorsi migliori che piacciono a nessuno. Nascosta negli angoli insieme alla polvere. C'è la nostra occasione. Sorridono gli occhi che sanno cambiare. E rimane la pioggia a fare rumore. È la parte migliore. E rimane la pioggia a fare rumore. E rimane la pioggia a fare rumore. Oh, 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 oh. Nascosta negli angoli insieme alla polvere. C'è la nostra occasione. Sorridono gli occhi Sorridono gli occhi e sanno cambiare Sorridono gli occhi e sanno cambiare Sorridono gli occhi e sanno cambiare Grazie, grazie mille è sempre emozionante per fortuna direi ci vuole allora mentre riprendo fiato vi presento questa nostra canzone che si chiama Vernice quindi non appena passa questo tempo è anche quello più bello perché stare sul palco e costruire il proprio suono non è una cosa così semplice e così scontata grazie mille a tutti per l'ascolto questa sera grazie un fiume di Vernice attraversa le mie verne un sangue che lo scorre e rallenta la corrente mi scivola, scivola, scivola tutto mi scivola, scivola, scivola addosso è lucido, è lucido il rosso, è lucido il volto, è lucido il volto timida la goccia che parte dalla faccia che sia lacrima o sudore e cosa te ne importa e cosa te ne importa e sulla mia ferita io ci basso la saliva il silenzio io lo sento non lo tengo non lo tengo un fiume di Vernice si riprende le mie verne il sangue che ora corre alimenta la corrente mi scivola, scivola, scivola tutto mi scivola, scivola, scivola addosso è lucido, è lucido il rosso, è lucido il volto, è lucido il volto timida la goccia che parte dalla faccia che sia lacrima o sudore e cosa te ne importa, cosa te ne importa mentre... il silenzio io lo sento non lo tengo non lo tengo è su la mia ferita io ci basso la saliva il silenzio io lo sento Non lo tengo, non lo tengo Allora, Valeria Crescenzi Leggo già, con un attimo in cui mi sono connesso Tano Lanza che scrive su Facebook Un piacere per sentire il giudizio di Mesonella Visto la situazione A lui consona No, volevo fare i miei personali complimenti Al chitarrista Perché suonare la chitarra ritmica di questi tempi Cioè è diventata proprio una cosa Che non si sente più Ma lui ha un senso del ritmo che è spaventoso Cioè di una A parte il fatto che si vede Legato da un amore profondo Con lo strumento Perché secondo me Sei veramente il chitarrista Ecco, tu sei il chitarrista No, 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 no E lei? Cioè, lei c'è No, vabbè, però tu hai detto Consono, allora siccome io Diciamo sono uno pseudo chitarrista Ma lei Io la trovo di un'originalità unica Mi ha fatto ricordare molto Cat Bash Non so se te la ricordi Bush si dice o Bash Mi ha fatto anche con le sbirgolate che puoi fare Poi questa ricerca Mai banale nei passaggi No, per chiudere le frasi musicali Perché si vede che c'è uno studio Fino all'ultima nota Io trovo che fanno un grandissimo lavoro Poi in due Che oggi è buono andare a suonare in due Perché si guadagni qualche euro Perché con la banda non si guadagna niente Io li trovo di una Stranamente di una grande dolcezza Siete un grande duo Bravi Grazie Valerio Sì, anch'io ti trovo brava Nel senso sei misurata Non strilli come Insomma, come spesso si usa fare Quindi anche la cosa Io t'avrei anche Anche con una chitarra acustica T'avrei voluto ascoltare Però va bene Grazie Massimo Lopez Bravi Brava Agrodolce Il contrasto è quello Bene, grazie Grazie mille Fantastico Massimo mi fa impazzire Grazie Complimenti Valeria Grazie Allora E quindi Sono d'accordo Red sembra l'unico A ricordarsi della musica in Italia Grazie Carlo Ma Spero di non essere l'unico Io vorrei fare altre cose Nella vita La sincerità è una delle migliori caratteristiche di Valerio Tutti stanno notando quanto tu sia bravo Perché Fausto Fausto ci siamo già accorti Perché dopo la prima puntata di Fiat Music Siamo rimasti tutti sorpresi Perché lui sarebbe un perfetto Sarebbe Perché non ce lo diamo Ma coach di un talent Però anche tu Lui fa musica Un paio d'anni prima di me Penso che abbia iniziato Quindi Due Ah vedi Un paio Ci siamo No io Ripeto Io sulla base di quella che è la mia esperienza Posso Dire Poi ciò che penso Che a volte può essere anche Semplicemente un giudizio abbraccio A volte no Allora Io sto guardando Ci sono delle robe bellissime sul palco Mamma mia Allora Marla Green Chi è ma sei tu Buonasera Ciao Scusa ma io sono affascinato anche da questa roba qui Cioè Molto piacere No vabbè troppo Cosa c'è scritto? Non mi piace questo tipo di Come non ti piace? Scusa Allora Ragioniamo un attimo Intanto tu Cominci ad andare Allora Una ragazza si fa Un tatuaggio sulla spalla Siamo già quasi in inverno Ma lei porta giustamente Un vestito Che lascia vedere il tatuaggio apposta Perché altrimenti Cosa se l'è fatto a fare Se si mettesse Una roba lunga Dopodiché io Fa molto caldo Fa molto caldo Fa sempre molto caldo Sempre molto caldo per lei Quindi io sono curioso di vedere cosa c'è scritto Drung the darkness Cosa c'è scritto? Traduce cosa c'è scritto? Sarebbe una frase di November Rain Un pezzo dei Guns N'Roses Un pezzo dei Guns N'Roses Un pezzo dei Guns N'Roses E questo già la dice lui Porca vacca Ma che succede? Sui social ragazzi Ma come siete messi qui? Porca ma Tu Cioè tu sei la più normale Esatto È sempre così Tu questa manco è truccata Questa è acqua e sapone Però accanto c'ha due colonne Tu come ti chiami? Claudia Claudia Cioè ma quando un ragazzo ti incontra Ha paura Tantissima Ecco Vabbè Cosa canti Marla? Vieni qua Allora Canto Obsession E Anxiety Sono due parti scritti da me In inglese? Sì in inglese Come mai canti in inglese? Perché mi piace il suono delle parole Accostato alla tipologia di musica Che facciamo noi Electropop Ma il tuo inglese Potrebbe andare bene anche per un straniero Che ti ascolta Un inglese che ti ascolta Ma credo di sì Perché il nostro batterista è americano Quindi lui dice che va bene Ah c'è il batterista americano E come mai è arrivato qui? Di dove sei tu? Io di Roma E lui? Come? Io di Roma Di Roma Ha detto che sei americano? Ok 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 Va bene Insomma sono curioso molto di ascoltare questa Marla Green Sei la chitarrista che ho giustamente importunato Lei giustamente mi ha mandato a cagare Si Ma è la tastierista Ah mi manca la tastierista Cioè ma è un gruppo È un female group Voi non contate niente Ma Cioè Anche tu Come ti chiami? Buonasera Margherita Però io in realtà sono una sostituta Perché il tastierista sarebbe il fratello di Daniele Che è americano E quindi anche Davide che è il tastierista sarebbe americano E io no Ma voi siete il gruppo che avete trovato la tastierista al volo per sostituire due In due giorni tu hai imparato i pezzi Sì sì Occhio Che suona Sì Va bene Brava Complimenti Ops Ci sei? No Se va a sentire? Allora dovete sapere che veramente i tecnici dell'OM fanno miracoli Perché qui ogni gruppo come vedete non cambia solo il gruppo Cambia tutto il parterre d'erua di effetti pedaliere Sì sento che va Cioè Cosa succede? Le sequenze pure C'hanno pure le sequenze quindi Non l'abbiamo presentato? Gli uomini Conta niente Mi devo offendere che non mi hai chiesto nulla Non mi dici niente Cosa vuoi chiedere? Tanto tu È inutile che tu vuoi parlare quando ci sono io a darti manforte Perché con loro non riesci a dire una parola Devi Cioè Quindi Non è affatto vero Chi fa la musica? La musica la fa lei È molto brava perché lei Pensa Poi tra Diciamo Essendo aiutata da noi e comunque da altre persone Mette in pratica quello che ha in testa Questa cosa è molto bella Allora io sono entusiasta di Fiat Music Perché mi permette di vedere delle realtà Che veramente non hanno mai spazio Ma non solo in televisione In radio Da nessuna parte Probabilmente neanche Nei locali Quindi Ed è una cosa fantastica Io non so Sono degli eroi questi ragazzi Perché vanno avanti Credono in quello che fanno Sono un po' rompiscatole Come una chitarrista Che ancora non è riuscita a fare il nuovo Però Poi ci riusciamo Ci siamo? Perché io ho paura Di avvicinarmi Ci siamo? Sì 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 Ok Ci sei? Siamo pronti? Allora Marla Marla Green Marla Green Marla Green Marla Green Marla Green Marla Green Barra Green Grazie per la visione Grazie per la visione Grazie per la visione Grazie per la visione Grazie Grazie per la visione 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 I'm going down Grazie per la visione 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 Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie per la visione Grazie a tutti 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 Dentro di me Grazie a tutti Se ne va Grazie a tutti Ed Ed Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti E quindi Grazie a tutti 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 Noi Grazie a tutti 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 Fausto Grazie a tutti 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 In coro Grazie a tutti 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 Grazie a tutti